Grazie al progetto Hairy Tour che vede i protagonisti, il comune di Pacentro, lo spin-off della Facoltà di Ingegneria dell'Università dell'Aquila e la società Ready to Use, una delle torri del Castello do Caldora, sarà osservata speciale. Primo comune a vedere applicato questo tipo di tecnologia su un complesso di interesse storico monumentale, Pacentro diventa punto di riferimento di un progetto che presto vedrà coinvolte altre realtà abruzzesi. In virtù di alcuni sensori collocati nella torre su tre livelli, saranno indicati non solo lo stato di salute attuale del monumento, ma saranno monitorati eventuali cambiamenti. I sistemi di monitoraggio installati sulla struttura riveleranno dunque gli spostamenti assoluti, eventuali cedimenti delle fondazioni, ma anche le vibrazioni a cui sottoposta la torre. In funzione dei dati, capiremo se ci stiamo avvicinando meno al valore di pericolo e di intervenire così in maniera tempestiva per evitare il peggio. Ad aiutarci saranno anche i satelliti, recuperando dati storici, ci favoriranno per comprendere meglio lo stato di salute della torre e di intervenire di conseguenza, afferma Paola Arena, responsabile di Ready to Use che gestisce la rete di monitoraggio e che grazie a specifici software è in grado di acquisire e gestire i dati interpretando i fenomeni per facilitare le decisioni di intervento. È un progetto di valorizzazione e tutela del patrimonio comunale, in particolare appunto del Castello di Pacentro. Per quanto riguarda la tutela, oggi stiamo installando dei sensori che sono stati ideati da una società spin-off dell'Università dell'Aquila, che faranno un monitoraggio H24 dei movimenti del Castello che saranno poi intersecati attraverso un algoritmo con dei dati che saranno presi da fondi aperti attraverso i satelliti, che ci darà la possibilità di sapere in ogni momento lo stato del Castello e soprattutto se la torre fa un piccolo movimento in modo da poter intervenire tempestivamente. Questa è una parte del progetto che appunto ha inizio oggi, ma poi c'è un'altra parte che è quella della valorizzazione, che prevede la ricostruzione virtuale del Castello così come era alle sue origini e che sarà possibile fruire a breve attraverso degli oculus che saranno a disposizione qui nel Castello. Insomma è un progetto molto molto interessante con partneri scientifici e tecnologici di altissimo livello per i quali abbiamo lavorato da oltre un anno e oggi si vedono le prime attività visibili, ma non sono le prime perché in realtà ci stiamo lavorando già da molto. Sono ovviamente soddisfatto ed è una parte di realizzazione anche per quello che sarà il futuro turistico di questo paese per quanto riguarda appunto l'idea del museo virtuale che stiamo sviluppando.